buongiorno belle bimbe finalmente riesco a girare un nuovo video ho un ballo dei tutorial che ci tengo a fare va bene parliamo dopo quando vi mostro le creazioni ma non riesco mai ultimamente a girare dei video stamattina mi sono imposta siccome appunto al 31 marzo mi sono imposta di fare il video creazioni di questo mese questo mese rispetto allo scorso in realtà ho creato anche parecchio allora portiamo dalle cosine semplici allora questi sono dei semplicissimi orecchini sono dei rivoli resina di ting ting mi pare da 16 incastonati a peyote basta semplicemente sono i rivoli quelli bianchi ho messo anche una goccia sempre bianco opal sotto e sono appunto incastonati a peyote con le treasure non le delica le treasure della to e 15 zero verdi poi sulla stessa linea mi prude la gola c'ho l'allergia è già iniziata maledizione sulla stessa linea ho fatto questi perché ho ritrovato dopo mesi i rivoli in resina quelli che però prendevo su royal stone anche questi sono dei rivoli e opalescenti ma non hanno la stessa luce di quelli di ting ting vedete cioè ai tempi non erano male mi piacevano tantissimo adesso che questo diego che tira fuori lego vabbè adesso che riesco a fare una differenza quelle di ting ting sono molto molto più belli niente questo arrivo lì da 14 mm l'ho semplicemente incastonato a peyote con delle delica in questo caso galvanizzante che ho trovato in fiera sono in teoria verdi e delle 15 zero poi mamma mia diego ha digerito non so se avete sentito mi prude veramente un sacco questa gola allora poi 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 ho realizzato questi orecchini e ne ho realizzate due paia montati in due modi diversi una l'ho montata su questa monachella quella lunga che non mi piace da morire non so mai come usare e sono ho seguito un tutorial di favolizioso bijou che trovate qua su youtube sono le perle vortice dopo comunque vi lascerò il link ovviamente e sono carinissime perché sono delle perline delle perle da 8 mm quindi piccole rivestite a peyote con solo 11 zero anche qui per la prima volta ho capito finalmente aumenti di munizioni con il peyote che per le sfere rivestite non avevo mai capito quindi le ho fatte in questa versione sul rosso e poi in quest'altra versione che sono le prime che ho fatto ad oro che veramente adoro sono incastrate in questa versione azzurra celestina bianca oro in questo caso le ho montate con la classica monachella e una goccina mignon perché sono veramente piccole che mi era stata regalata scusate non mi ricordo da chi ma mi pare in un rack adoro questa goccina in mezzo cristallo il colore è bellissimo questo celeste proprio baby solo che è molto piccola è più piccola di quelle classiche e quindi sotto magari dei moduli un po' più grandi non ci stava invece ho trovato secondo me la loro casa stanno benissimo il colore è lo stesso delle rocaille mi piacciono tantissimo questi orecchini troppo tenerini troppo tenerini va bene poi andiamo avanti con allora questi che sono i miei federica li avrete visti in parecchie salse nel senso che la prima versione era quella gialla azzurra che non ho più perché ho venduto poi ho fatto la seconda versione gialle blu che l'avevo fatta su commissione e non ce l'ho da mostrarvi perché appunto l'ho venduta e quindi ho deciso di rifarla in altri colori sempre con colori molto estivi usando un po' i colori ho fatto anche questa versione verde fucsia la monachella è la classica monachella ad amo che però sotto consiglio di Marta che mi sta facendo una testa tanta che sono brutte queste monachelle io non ne ho molte altre particolari ho cercato di abbellirla un po' togliendo la molla e la pallina e mettendo magari qualche perla perlina che richiamasse la lavorazione diciamo che è sempre semplice ma magari un po' meno non so come dire banale e quindi niente questo orecchino prima o poi farò il tutorial perché l'ho promesso devo solo trovare la voglia e vi faccio vedere allora brevemente composto da due moduli che possono essere utilizzati separatamente infatti in un'altra commissione io ho fatto solo la parte sotto in azzurro e giallo e in altri che adesso fra poco vi mostrerò ho fatto solo la versione sopra per fare degli orecchini un po' più piccini mi piace molto sono semplicissime eh non hanno niente di particolare sembrano chissà cosa perché li vedete un po' grandi ma in realtà sono due moduli uniti che sono veramente veloci da fare quindi ora per andare a richiamare appunto la parte sopra un paio è questo che è come quelli che avevo fatto azzurri e gialli appunto vedete che la parte è la stessa la lavorazione semplicemente qua ho usato un rivoli da 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 in teoria è 14 ma no no è 12 da 12 con un cabochon e anche qua un cabochon soft touch da 12 ma siamo sicure ho un lapsus o 12 o 14 no direi 12 perché il 14 l'ho usato qua nel sotto quindi e niente e mi piace molto vedete questo abbinamento anche qua io ho queste gocce in mezzo cristallo azzurro opal sono un po' opalescenti queste gocce mi piacciono tantissimo e mi sembravano azzeccate sotto questo paio di orecchini che mi piace da vorre dicono che i soft touch col tempo si rovinano io non ho ancora ben capito se si rovinano solo rimanendo nelle bustine che diventano dicono che diventano peccicosi ma non so se succede solo rimanendo nelle bustine solo in realtà con l'aria se rimangono nelle bustine quindi io li ho fatti li adoro spero che non si rovinino perché davvero fanno un effetto questi caboson danno un effetto veramente veramente bello alle nostre creazioni e sarebbe proprio un peccato se si rovinassero a parte per le figure se abbiamo venduto qualcosa e si rovina sicuramente non è una bella figura ma poi proprio perché appunto è proprio un dispiacere che si rovini questo effetto che hanno bellissimo secondo me poi stesso stile ho creato questi che sono sempre la parte allora sono sempre la parte diciamo sopra vedete sono come questi praticamente in più grande sono solo la parte superiore in versione un po' più grande però perché ho usato questo caboson che mi aveva regalato Marta nel nostro swap non mi ricordo se da 16 o da 18 e queste gocce che mi pare mi avesse regalato se non sbaglio Melissa Campagnolo in un rack dovrebbero essere venire da lei allora stessa lavorazione peyote e tutto quanto i colori per i colori i colori ho osato e devo dire che il risultato non mi dispiace per niente sapete che io ho sempre paura a quei colori avevo chiesto tra avevo chiesto consiglio a Marta ad Emanuela così ciao bimbe e e niente mi hanno appunto consigliato perché io avevo come elementi i caboson e la goccia quindi blu e ho detto cosa ci mette insieme Marta mi ha detto usa rosa usa fucsia fucsia sta bene l'ho fatto ed effettivamente mi piace tantissimo sono due settimane che vorrei usarli ma non riesco mai ad usarli perché non ho niente da abbinarci in realtà perché io non ho vestiti rosa e vabbè anche qua ho fatto il giochino della monachella cercando di migliorarla un pochettino poi 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 allora eccoli qua allora questi sono un altro mio paio di orecchini per cui ho in ballo il il tutorial che però non sono ancora riuscita a fare hanno rivoli da 14 dovrebbe essere millimetri l'ho incastonato con le delica che mi hanno mi ha regalato Barbara in sempre in un rack quindi sono delica e non treasure e poi ho fatto questa decorazione intorno con super duo messe magari storte rispetto al solito e poi dritte e cipollotti e poi ho aggiunto queste gocce anche queste mi sono state regalate ma non mi ricordo da chi stavolta chiedo scusa sanno ormai quando mi fanno dei rack sanno che mettono dei paccozzi tanti di gocce perché sanno che io le amo e sono veramente veramente belle le adoro sia al tatto che come presenza cioè questi orecchini mi piace io faccio così ogni tanto li prendo in mano e faccio così perché voglio sentire la goccia che si muove è veramente bellissima e niente anche di questi c'è in ballo il tutorial o allora detto tra noi quindi tra me e 3000 persone ma vabbè lo schema a pagamento perché ammetto che ragazze vorrei iniziare mi sento pronta per iniziare a fare qualche schema a pagamento perché mi piace fare tutorial io lo adoro le perline sono la mia passione però sapete io non lavoro sono a casa con un bambino piccolo e comunque trovo giusto in fin dei conti ricevere un compenso un minimo compenso ok non mi metto a fare tutorial da 18 euro senza dubbio però un minimo compenso per quello che riesco a creare comunque per andare avanti a farlo perché se finisco i materiali ma io non lavorando come li ordino con gli nuovi quindi in qualche modo bisogna campare poi ultimo paio che in realtà sono tre ma sono lo stesso modello e anche di questi appunto vale lo stesso del cosa ho fatto? ho fatto cadere tutto mi sembrava strano che non fosse ancora successo no? anche di questi è lo stesso discorso sullo schema o meno pagamento sono gli orecchini li ho chiamati Milena questi sono la prima versione che sono nati proprio per caso sempre per usare tutte le mie varie perle da 4 mm di cui sono piena questa è l'incassonatura in realtà è fatta con rocaille e non con le delica ma sta chiacchierando boh e con una goccia e mezzo cristallo la seconda versione il rivoli è da 14 si la seconda versione invece è stata questa anche questo solito discorso del ero in dubbio sui colori e invece devo dire perché in genere più di due colori ho paura vedete che fare tutto sullo stesso vedete qua sono due anche nei prossimi saranno due qua ho usato con tre colori e devo dire che in realtà sono molto soddisfatta del risultato con questo lilla chiaro molto delicato sia del rivoli che nelle perle da 4 questo bronzo e questo verde e devo dire che in realtà sono veramente soddisfatta tra le tre questa qua è la versione che mi piace di più mi piace proprio mi ricorda un campo di un campo di fiori primaverile proprio questi colori verde dell'erba il bronzo la terra il violetto dei fiori vabbè sono un po' bruciata di prima mattina appena sveglia chissà cosa c'era nel latte infine ultimo li ho fatti no non li ho fatti ieri li ho fatti l'altro ieri ma vabbè sempre stesso schema però questa volta con il mio colore classico il turchese ho usato delle perle da 4 mm e le gocce in pasta di turchese e poi sempre il rocaille della toy e un rivolo in vetro allora devo dire che forse l'impatto finale non è così carino esteticamente parlando cioè io ho voluto usare questo queste sono le perle in teoria sono terracotta come colore le ho volute usare proprio per richiamare queste levennature classiche della pasta di turchese però è un punto di domanda sinceramente voi cosa pensate non lo so cioè si linea di massima si non è che mi fanno schifo però non hanno questa questa finezza diciamo non so ah dove vai non hanno la finezza come in questa versione no guardiamoli tutti e tre eccoli qua sicuramente secondo me la versione più fine ovviamente è questa boh ditemi cosa ne pensate e soprattutto cosa ne pensate per i per gli schemi a pagamento io lo so lo so che voi direste no non farli a pagamento preferisco non a pagamento è ovvio io lo capisco il mio impegno sarà quello di riuscire a farli ad un prezzo abbordabile senza dubbio so che ci vuole tanta fatica a farli quindi non critico chi li vende a 8-10 euro perché è vero che ci vuole tanto ragazze per fare uno schema c'è poco da fare basta vedere con un video quanto ci vuole immaginatevi uno schema chi fa gli schemi grafici e quindi con tutti i disegnini che deve inserire una formina alla volta chi fa gli schemi i schemi fotografici che comunque deve fotografare i vari passaggi però puoi scrivere ogni minima cosa ogni didascalia non è facile fare schemi cioè non è immediato ragazze quindi io adesso lo capisco da quando ho provato a farli capisco chi mette cioè capisco i prezzi a volte è vero che sono esagerati ci sono dei prezzi assurdi per stupidate cioè trovare su Etsy trovate anche schemi a pagamento di incastonature peyote che li trovate tranquillamente su youtube c'è chi magari però i video non riesce a seguirli preferisce la cartaceo però voglio dire in quel caso mi puoi far pagare 10 euro l'incastonatura di un rivoli a peyote voglio dire cioè questo come fai a pagarmi farmi pagare 10 euro lo schema di questo quando invece ci sono lavori un po' più complessi ragazzi che più complessi non sono questi perché questi tutto sommato non sono difficili io ho visto ragazzi su Etsy schemi di lavori che se non ci fosse lo schema ma neanche la creatrice stessa riuscirebbe a capire quali sono i passaggi di nuovo comunque quindi io mi impegnerò nel caso scegliessi di fare uno schema a pagamento si può anche provare poi se non vedo riscontro non vedremo potrei cambiare linea comunque mi impegnerò a mantenere una cifra ovviamente onesta ed accessibile a tutti lo so per prima perché io non ce la posso fare a spendere 10 euro per uno schema lo ammetto non l'ho mai comprato e niente basta detto ciò vi saluto e ci vediamo alla prossima ciao